Un filo di lana, un tocco di moda, un evento davvero importante perché tocca anche la solidarietà. Soprattutto la solidarietà perché è bene che chi sa fare cose artigianali metta la propria abilità a disposizione di queste associazioni di volontariato che sappiamo funzionano molto bene. Si tratta di Amopuglia che si occupa dell'assistenza domiciliare per i malati. Abbiamo fatto vari tipi di colli utilizzando lane di tutti i colori con varie forme, stretti, grandi, di vari filati. Tra le cose del nostro artigianato anche l'abbigliamento abbiamo questi abitini a sacchetto che sono molto di tendenza. Molto di tendenza da usare con i leggings o con le calze pesanti e vestono molto bene perché hanno una vestibilità comoda. Non solo artigianato pugliese ma questa volta anche artigianato fiorentino. Esattamente. Abbiamo avuto la possibilità attraverso un artigiano di Firenze di farci realizzare queste borse cartella che sono molto belle in una pelle tipo nappa quindi molto morbide e mi stanno piacendo tantissimo. Ho pensato di dedicare queste due giornate alla fondazione Amopuglia e tutto il ricavato sarà donato a loro.